Guerrino Tramonti è uno degli artisti italiani che ha costruito attraverso la ceramica una grande produzione artistica. Guerrino Tramonti non è stato un ceramista, Guerrino Tramonti è stato un artista dell'Italia del Novecento che ha scelto tra i materiali anche la ceramica e soprattutto la ceramica e ci ha aiutato a comprendere come la ceramica sia un materiale possibile per fare arte contemporanea per aver fatto arte tra il Novecento e il Duemila. Un artista legato non solo alla terra ma alle terre che ha frequentato e per questo che come Associazione Italiana Città delle Ceramiche siamo stati in questo percorso abbiamo appoggiato, dato il nostro contributo per una mostra che ha raccontato all'Italia la produzione di un grande artista che per noi, l'Associazione di 46 Città, non è solo un artista tra i tanti nel dibattito prettamente estetico, poetico dell'arte contemporanea ma è rappresentante di una parte del nostro mondo nella produzione di Guerrino Tramonti quindi ci sono Faenza, ci sono Castelli, ci sono le comunità italiane della ceramica e queste tradizioni sono miscela, sono impasto, non sono materiali sui quali Guerrino Tramonti ha costruito una celebrazione sono patrimoni di tradizioni sui quali lui è partito per raccontare la sua di storia noi siamo città che non ci prendiamo cura di qualcosa che è successo ma città che vedono e vivono la trasformazione come categoria essenziale della propria identità in questo continuo processo di rigenerazione abbiamo bisogno di artisti come Guerrino Tramonti che da un lato ci fanno sentire comunità, dall'altro ci mettono in discussione per andare avanti grazie a tutti